Salve amici, anche quest'anno vi aspetto qui al Teatro Ghione dal 22 di dicembre con una mia nuova commedia che si chiama Carabinieri si nasce. E spero di poter passare un capodanno con voi straordinario, ci sarà anche quest'anno Giorgio Gobbi, l'indimenticato Ricciotto del Marchese del Grillo, Bruno Pilotta, la bellissima Vania Della Bidia, Patrizia Pezza, Prospero Richelmi e un giovane attore veneto molto, molto bravo e molto divertente che si chiama Andrea Manzalini. Ma che sei una vite? Ci chiedono di intervenirsi? Sì ma dove chi? Non me l'ha dito! A domandolo! Sì ma dove chi? Ah? 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 Un attimo che riferisco, riferisco all'osteria del mono, di sei uno che fa il matto, di sei un forestiero? Io vi aspetto e sono sicuro che ci divertiremo moltissimo, passiamo il capodanno insieme anche quest'anno. Grazie mille! Grazie a tutti.